eccoci qui dopo giorni e giorni di prove annullate causa maltempo oggi dove essere il primo giorno utile per riuscire a fare le prime gare tant'è vero come da programma tre gare oggi accorciate infatti la junior era stata ridotta da quattro a tre giri siamo i primi a partire dopo il primo giro da regolamento bisognava fermarsi per fare il pit stop e poi ripartire per fare gli ultimi due giri partiamo me ne sono accorto subito di avere qualche problemino in sesta perché la moto non faceva molta velocità e a circa metà giro sono stato superato da maiola che ha fatto davvero un gran bel primo giro ho cercato di seguirlo nel guidato siamo rimasti insieme ad arpen l'ho rinfilato ma poi a salire su mia mia di passate da ed allungato pit stop fatto perfettamente abbiamo recuperato anzi qualcosina siamo ripartiti e stessa situazione la moto non faceva saliva di giri si accorciava tantissimo di rapporto ma non faceva strada dopo tre quarti di del secondo giro bandiera rossa causa incidente per fortuna il pilota sta bene noi ci siamo fermati a keppel gate e lì è finita la gara ci hanno riportato giù al paddock nel frattempo che ripristinavano comunque la strada e hanno iniziato a ritardare di dieci minuti in dieci minuti fino a che poi si è girato il tempo che ha iniziato a piovere gara annullata per cui tutto da rifare spostano tutte le gare a lunedì quindi ci saranno sei gare in programma lunedì non so come riescano a gestire questa situazione e speriamo che il meteo lunedì almeno ci assista